Se usi Canva, l'applicazione per disegnare qualunque cosa, questo video ti svolta la vita, ti svolta la carriera, ti svolta il lavoro, quello quotidiano. Perché? Perché Canva, il colosso del disegno, lancia delle novità davvero interessanti, sono tante, ti faccio vedere innanzitutto che cos'è Canva. Diciamo che tu non lo sai, Canva è un programma, è uno strumento per generare immagini, presentazioni, video, fa veramente di tutto. È uno dei tool indispensabili oggigiorno se fai comunicazione, se hai delle reti sociali, lavora anche con il tuo team, addirittura è stato sviluppato, è migliorato, ottimizzato la parte del team, ed ha dei template pronti, insomma, è una riserva praticamente inesauribile di risorse grafiche e modelli pronti per post delle reti sociali, articoli del tuo blog, curriculum, video, caroselli, tutto quello che puoi pensare. Ok? È una bomba. C'è una versione gratuita molto generosa e ci sono delle versioni a pagamento che hanno delle funzioni avanzate. Bene, ti faccio vedere adesso le novità, perché Canva è notizia di poche ore, lancia roba nuova, lancia delle informazioni nuove, lancia il Magic Edit, il Magic Word, il Magic Design e roba, roba veramente figa, interessante. Andiamo con ordine, poi te le farò vedere anche. La prima cosa che parla è Magic Design. È l'ispirazione che ti serve su on demand, sull'immagine che tu trascini. Che cosa vuol dire? Che tu prima con Canva quello che dovevi fare era prendere il template e aggiungere poi le tue immagini. Con i modelli di intelligenza artificiale ti cito Mid Journey e troverai qui in descrizione un altro da qualche parte il link del tutorial approfondito di Mid Journey. E ti cito anche dall'I2 l'equivalente dove tu metti il testo e ti generano le immagini. Ebbene, con tutti questi strumenti innovativi di intelligenza artificiale, Canva ha pensato di lanciare il suo contributo dove tu gli trascini la tua immagine e, indovina un po', lui ti crea la grafica attorno. Quindi non più tu scegli il template e poi ci carichi le immagini, tu metti le immagini e lui attorna a quell'immagine. Ovviamente quella composizione grafica editabile, secondo quello che a te pare e piace, lui ci costruisce e ci mette il formato grafico, appunto, perdonami. Ma non è finita. Vedi qua sotto quante sono le novità? Questa è solo la prima. Ma c'è il magic edit. Che cosa fa? Magicamente tu gli cancelli una cosa, un elemento all'interno di una foto e gli dici guarda io qui invece che il vasetto voglio una teiera. E lui sbam attraverso lo strumento di intelligenza artificiale, avevamo già parlato, che Canva costituisce all'interno uno strumento di intelligenza artificiale. In un altro video, poi te lo linko da qualche parte, è molto interessante che l'ha fatto anche sulla possibilità di cancella e rimetti un oggetto, quello che ti interessa. Veramente, veramente, veramente interessante. E parte traduzioni. Oggigiorno non ti serve più andare esternamente negli strumenti tipo Google Translate, Deeple e altra robetta all'interno di Canva. Tu fai già la traduzione in mille e mille lingue. Altra cosa interessante è lo strumento Beat Sync e questo è molto figo perché se ti interessa andare a ritmo di musica con i cambi, con le scene e con la possibilità appunto di inquadrare sul beat, sul basso, sul cambio di ritmo, di fare un cambio di scena nel video, ebbene lo potrai fare perché lui sincronizza automaticamente audio e video appunto con la funzione Beat Sync. Niente più editing manuale che a noi non ci piace. Mostra i momenti di punta e mantieni lì il pubblico bello sintonizzato, bello stimolato. Ah, a proposito, non mi sono ancora presentato. Hola Automatiker e futuro Automatiker. Io mi chiamo Stefano e ti do il mio personalissimo benvenuto in Automatiking. La prima e unica accademia che si occupa di mettere il pilota automatico al tuo business. Noi ti aiutiamo e ti aiutiamo gratis. La vedi questa robetta qua sotto? Automatiking.com slash gratis la nostra newsletter. Ti ci scrivi, indovina un po'? Esatto, ti ci scrivi gratis. E ogni settimana ti mandiamo ben tre strumenti di automazione per aiutarti a vendere di più. Ah, senza stress. Grazie appunto alle automazioni di business. Quindi, fossi in te, io mi ci iscriverei subitissimo, dicevamo. E quindi l'automazione di BitSync. Ma non è finita. Hanno aggiunto delle funzioni di draw, di disegno. Quindi hai la possibilità di fare quello che una volta si faceva, no? Sui programmi di disegno, soprattutto lato iPad. Oggi lo puoi fare anche all'interno di Canva. Quindi scratch, file, prendi note. Molto, molto figo. Molto bello il Magic Razer. Oggi ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato anche in altri video, degli strumenti di intelligenza artificiale che ti possono aiutare a fare l'editing delle foto, soprattutto per la rimozione di oggetti indesiderati. Ebbene, adesso Canva lo fa all'interno. Quindi, che cosa dirti di più? Semplicemente lo devi provare. È semplicissimo. Individui, evidenzi quello che è l'oggetto da eliminare. E lui, in due clic, te l'ha fatto. Molto bello. Ah, ho saltato uno. Molto bello. Questo delle animazioni. Ok, si possono e si potevano fare delle animazioni in Canva che di solito erano preconfigurate. Oggi invece puoi trascinare tu l'oggetto secondo il movimento che vuoi che faccia e indovina un po', l'automazione lo farà per te. Quindi Canva in automatico genererà quel percorso secondo il movimento del tuo mouse sull'elemento che tu hai scelto. Davvero molto interessante come il MagicWrite. MagicWrite in realtà è stato il primo che è stato annunciato di questo set di strumenti. È uno strumentino che ti permette un pochettino come chat CPT, un pochettino come... No, tutti questi strumenti che ti permettono di generare, grazie all'intelligenza artificiale, dei testi adesso si integrano con Canva. Ti consiglio di non utilizzare dei testi troppo lunghi perché non ha la funzione chat. Quindi se tu gli vai dialogando lui perde le informazioni, ma è molto interessante se devi scriverti un testo sempre sotto forma di bozza. Ricordati questo tipo di strumenti, l'abbiamo detto, ridetto e stradetto, ma ci tengo a sottolinearlo ogni volta. Questo tipo di strumenti sono delle guide, ok? Foglio bianco, ah non so cosa scrivere! Nessun problema. Uso lo strumento, mi faccio dare uno spunto e poi come un grano salis con un poco di sale in zucca io le modifico secondo il mio tono di voce, le mie esigenze. Ok, già ci siamo capiti. Bene, ti faccio vedere questo text to image. Altra funzione, questa ne abbiamo parlato in un video. Ebbene, questa funzione è molto interessante perché scimmiotta un pochettino, in realtà acquisisce, no scimmiotta, acquisisce le funzioni di Mi Journey dall'i2 e via dicendo. Molto interessante che in questo aggiornamento lo hanno migliorato in termini di risoluzione e qualità di generazione dell'immagine. Prima scimmiottava i fratelli più grandi dall'i2, Mi Journey e bla bla bla, Stable Diffusion, perché era molto semplice il disegno che faceva, anche se molto interessante, ma era gli albori, ormai sembra passato un mese, ma sembra una vita fa, e soprattutto le dimensioni erano piccoline, quindi appena andavi a ingrandirlo la qualità si perdeva. Oggi molto più qualitativo, sia a livello di disegno che a livello di dimensione. Ok? Altra cosa, Layout and Styles hanno migliorato tutto quello che ha a che fare la parte dei layout, quindi con un solo clic adesso puoi adattare qualsiasi forma grafica, qualsiasi elemento grafico, qualsiasi colore all'interno del tuo artwork grafico, con un clic lo hai sistemato. Bello, a noi che ci piace risparmiare tempo. E questo è lo strumento, ne abbiamo parlato in un altro video, dove parlavamo degli strumenti di intelligenza artificiale che potevano aiutarti a creare le presentazioni. Adesso, grazie a Magic Design, nella versione della Presentation, lui che cosa ti permette di fare? Ti permette di creare delle presentazioni. Quindi di base, non più scelgo il template, ma gli do l'argomento e lui lo sviluppa. Ovviamente è integrabile con tutti gli altri strumenti, quindi gli puoi cambiare i colori, gli puoi cambiare i nuovi testi con Magic Word, insomma, un po' di robetta. Andiamo a vedere, all'interno del mio account, andiamo a scoprire ognuno di questi dettagli, perché se hai un account a pagamento, li trovi già all'interno del tuo sistema Canva, non devi aggiornare, non devi fare nulla, Canva è online, è da cellulare, iPad, computer, Mac, desktop, computer in generale, PC. Ha voglia di fare. Bene, l'hub del brand è stato migliorato, andiamo a leggere, ora puoi centralizzare le risorse del brand, con font, color, loghi, icone, immagini e grafiche, nel kit aziendale. Quindi un posto unico. Aggiungi linee guida per aiutare il team a comprendere al meglio come e quando utilizzare le varie risorse, quindi molto bene per quanto riguarda chi come te o me ha dei team. Sostituisci magicamente loghi e immagini nei progetti esistenti con un solo clic. Ok? Quindi vuoi attualizzare, cambi il logo, il brand, sbam, un clic ed è risolto. Trova tutte le risorse del brand in un unico posto e questo ci permette di risparmiare tempo nell'editor per aggiornarle, per aggiungere rapidamente a progetti e rimanere sempre coerente. E questa è la prima novità. Andiamo a scoprire la seconda? La seconda novità, abbiamo detto il traduttore, vogliamo andare ad approfondire. aggiungi del testo al tuo progetto, scegli tra le oltre mille, scusami, cento lingue a disposizione e convertilo all'istante, traduci il testo all'istante e convertilo senza uscire dal progetto. Questo è per quanto riguarda il Google, cioè il Google Traduttore, sì in realtà il Google Translate all'interno di Canva. Scrittura Magica, questo mi interessa particolarmente, è il tuo assistente di scrittura basato sull'intelligenza artificiale, in grado di aiutarti a dare rapidamente il via alle tue idee per fare brainstorming. Puoi generare rapidamente un testo basato sui tuoi suggerimenti, in questo modo puoi velocizzare, bella questa parola, velocizzare il tuo progetto creativo e aumentare la produttività. Hai difficoltà a scrivere, insomma di iniziare a scrivere, il foglio bianco che ti dicevo prima, usa scrittura magica per generare la frase o un paragrafo o un elenco o una bozza o quello che ti pare da utilizzare all'interno dei tuoi progetti. Altra cosa che vogliamo andare a scoprire, diciamo un nuovo pacchettino, lo sappiamo già, il ritocco magico. Vuoi cancellare qualcosa da un'immagine o sostituire un piccolo dettaglio? Non c'è un problema, ci passi sopra il pennarello e sull'area che vuoi cambiare lui te lo sostituisce. Altro regalino, lo sappiamo, ma mi piace scartarlo con te, la possibilità del disegno, ok? Dai sfogo alla tua creatività con il disegno a mano libera. Scegli tra il tratto penna, i colori, l'evidenziatore e bla bla bla. Ok? Queste sono cose che ragazzi vi lascio giocare a voi perché altrimenti qui il video diventa lungo e non lo vogliamo, vogliamo stare sul pezzo. Questo è molto interessante. L'animazione. Crea facilmente il tuo stile di animazione unico e dai vita alla tua storia. Trascina gli elementi sullo schermo per registrare il percorso e poi lo lanci. Quindi, osserva gli elementi sullo schermo mentre si spostano, zigzag, accelerano, rallentano, gli puoi dare anche delle funzioni basate appunto su questo e ovviamente possono lampeggiare, quindi possono fare appunto un lampeggio, sia on, off e poi lo puoi aggiungere a qualsiasi elemento. Va bene? Questo l'abbiamo accennato, il beat sync, la possibilità di sincronizzare sul beat la musica, scusami, il video. Quindi abbina automaticamente la colonna sonora al filmato per creare un video perfettamente sincronizzato. Vuoi maggiore controllo? Usa le regolazioni manuali per spostare il video e le vuoi adattare ovviamente a qualsiasi ritmo. Hai in mente una canzone particolare? Carica il brano nella sezione audio, carica il brano oppure cercano nella loro raccolta e il gioco è fatto. E poi abbiamo detto da testo immagine, questo l'avevamo già provato, l'avevamo già visto, quindi non mi vado a ripetere, c'è il video specifico. Molto interessante che quando vai all'interno di un progetto e ti faccio vedere solo questo, andiamo ad aprire, hanno aggiunto da poco anche la funzione doc, quindi se hai un pdf e lo vuoi modificare, editare, lo metti dentro Canva ed è fatta. Non più pdf reader, composer, tutto all'interno di Canva sta diventando una suite davvero imprescindibile, ti trovi a tra parentesi due cose, facciamo così, la prima, se ti vuoi abbonare a Canva ma magari non l'hai ancora fatto, lo vuoi approvare, qui sotto c'è un codice, c'è un link con un codice affiliato, c'è un codice sconto, adesso non mi ricordo, ma il concetto base dovrebbe essere un link affiliato, il concetto base è che a te non cambia nulla, addirittura puoi avere degli sconti, nel caso nostro Canva ci riconosce qualche soldino che noi rinvestiamo nel creare nuovi video, nuovi tutorial per migliorare, per imparare cose nuove e ricondividerlo con te, quindi se vuoi supportare il progetto di Automaticking all'autocanale YouTube prendi Canva con il link qui sotto e in generale altra cosa che puoi fare oltre a lasciare un like e iscriverti al canale perché numero uno ogni settimana pubblichiamo tutorial, strategie, strumenti, automazioni e figate per vendere di più senza stress, noi ti vogliamo aiutare che fai delle perdi soprattutto seconda cosa la tua concorrenza. Io lo so che la tua concorrenza sta lì e stava pensando di iscriversi e non l'ha fatto. Oggi tu hai la possibilità di arrivare prima della tua concorrenza quindi iscriviti e battili sul tempo. Mi raccomando torniamo a noi ti faccio vedere appunto andiamo a creare per esempio un volantino ok andiamo giusto per creare una cosa insieme ti faccio vedere solo dove appare l'iconcina vuoi aprirlo nell'app c'è la versione app c'è la versione mobile no io ti faccio vedere solo qui qui è dove si trova scrittura magica testo il condividi e tutte le altre funzioni di cui abbiamo parlato il traduttore i disegni e tutto quello che ci possa interessare se non lo dovessi ancora trovare all'interno del tuo account aspetta qualche giorno qualche aggiornamento e lo avrai ti lascio prima di salutarci appunto al tutorial di Canva l'abbiamo detto è uno strumento potentissimo è uno strumento che ti permette di gestire il tuo brand e quindi io ti lascio al tutorial dettagliato appunto di Canva un abbraccio e al prossimo video ciao